Tommy, mi fai questa di Lautaro? Sì, certo, subito. E questa che ne dici? Oh mio Dio. Posso... Guarda, va benissimo così, però ti chiedo una firma. Molto volentieri. Grazie mille. Ciao, grazie. Mi serve una mano? Sì, per favore. Prego signori, venite alla cassa. Scusa, sono giunti che aspetto, non puoi aiutare? Certo, vieni, vieni, vieni in cassa con me. L'abbiamo fatto aspettare un po' troppo. Chi la vuoi? Di Messina. Eh, mica poco. Ecco la sua maglia. Oddio, possiamo fare un selfie? Certo, certo. Oddio mio, che emozione. Ma ha visto che c'è bene? Ciao, Tomano. Ciao, ragazzi. Bene, bene, tutto bene? Allora? Siamo, ci siamo. È un nuovo mestiere anche questo, si impara, bisogna imparare. Sì, 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 certo. Come il mio miglior amico. Vieni, vieni. Ad Andrea. Certo, certo, vieni. Ciao. Sì, sì, certo, vieni. Grazie, grazie. Sempre. Salve, buongiorno. Serve una mano? Sì, mi servirebbe per un bambino di due. Grazie, è stato un piacere. Grazie a te. A riederci. Tommy, grazie. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a tutti.